Il quinto successo consecutivo, la vittoria tenuta contro la miglior difesa del raggruppamento, i tre punti conquistati non solo con la qualità e con il guizzo del singolo, nel caso specifico Riccardo Lattanzio, ma anche con la forza del gruppo, un collettivo, quello del Cerignola che ha saputo stringere i denti, badare la sostanza e condurre in porto un'affermazione nel derby esterno con la Fidelis giocato sul neutro di Apricena senza pubblico, fondamentale per le ambizioni e promozione degli Ofantini, analisi condivisa anche dal direttore sportivo dei Giallo-Blu, Alessandro Degli Esposti. Per noi era fondamentale vincere per rimanere attaccate al treno delle prime, sapevamo di trovare un avversario tosto, organizzato, che giocava molto bene in ampiezza, per cui abbiamo saputo anche soffrire per alcuni tratti della gara, ma siamo riusciti a portare in porto una gara fondamentale per quello che è il proseguo del nostro campionato. Ecco dalla classifica del Gironi H di Serie D, aggiornata dopo il recupero vinto ieri dalla capolista Picerno con il Gravina, il Cerignola, e secondo a meno 4 dalla prima della classe e a più 4 sul Taranto, quando mancano 8 turni al termine della stagione regolare. Al di là di quello che sono i risultati delle nostre dirette concorrenti, noi siamo concentrati su quello che è il nostro percorso, veniamo da 5 vittorie consecutive, questo ci dà continuità e ci permette, ti ripeto, di rimanere attaccati al treno delle battistrada e vedere quello che succede in queste restanti partite. Decisivo per i giochi promozione potrebbe essere davvero lo scontro diretto tra Cerignola e Picerno dalla penultima giornata in scaletta al Monteresi. Domenica 28 aprile, prima però ci sono altre 6 tappe da affrontare a partire dal derby casalingo con il Fasano. In programma dopo la sosta il 17 marzo, appuntamento in cui la squadra di Dino Bitetto è chiamata anche a riscattare la sconfitta dell'andata, rimediata al Vito Curlo con i Biancazzori di Giuseppe La Terza. I Cerignolani, prima del Picerno tra l'altro, affronteranno anche le due Murgiane, Gravina e Timaltamura, Gelbison, Nardò e Granata. La strada, insomma, è ancora molto lunga, di certo gli Ofantini sono pronti per essere protagonisti sino al termine di questo campionato.